E continua il nostro viaggio, meglio si conclude anche con queste ultime puntate, questo viaggio che abbiamo fatto, tutte le tappe precedenti che abbiamo fatto dell'APE Summer Tour. La prima tappa abbiamo fatto un collegamento dalla Sicilia, poi la seconda tappa dalla Calabria, la terza tappa già da Torre Pellice dove questo progetto è arrivato e adesso ci ritroviamo al Sinodo, durante i lavori del Sinodo, per tirare un po' anche le fila e tirare le conclusioni di questo progetto. Allora, non lo diamo per scontato, magari qualcuno non ha seguito le tappe precedenti, che cos'è l'APE Summer Tour? Lo faccio spiegare direttamente ai miei ospiti, ovvero Tancianok, Jeremy e Jennifer, che sono altre persone, perché ne abbiamo viste a rotazione diverse, quindi di volta in volta i volti cambiavano e sono parte di questo folto gruppo, 20 ragazzi e ragazze, 4 animatori e animatrici che hanno viaggiato dal 13 agosto fino appunto adesso, in questi giorni, in tutta Italia. Allora, l'APE Summer Tour, Tancianok, che cos'è? L'APE Summer Tour sta, intanto, per Ascoltare per Esserci, è un progetto promosso dalla tavola valdese con l'idea di appunto mettere un insieme, un gruppo di ragazzi e ragazze da tutta Italia, chiese valdesi e metodisse, che insieme affrontano questo viaggio per scoprire posti e persone, luoghi, in tutto quello che è lo stivale italiano, opere valdesi principalmente, e ora siamo qua in Valpellice per seguire anche i lavori del Sinodo. È un gruppo che, ci tengo a sottolineare, non si conosceva prima, quindi completamente di persone da tutta Italia che appunto condividevano magari una fascia d'età simile, però a parte questo, e avere insieme un'unica fede, quella di essere tutti quanti valdesi e metodiste. Erano, diciamo, i tratti di unione. Esatto, quello era il filo che teneva tutto questo alveare, possiamo chiamarlo così oramai. Eh sì, anche perché l'ape, l'acronimo simboleggiava anche, non a caso, un insetto, ovvero l'ape, che però è noto per la sua voglia di muoversi, di spostarsi, di fare la sua laboriosità. Esatto. E quindi questo viaggio è partito appunto il 13 di agosto dalla Sicilia e si concluderà alla fine, dopo domani. Cioè, dopo domani è l'ultimo giorno in cui i ragazzi e ragazze prepareranno le ultime cose per le proprie valigie per effettivamente partire. E tornare nei propri luoghi di origine. Jeremy già dice no, tu dovrai tornare a Genova. Sì, a Genova. Giusto, perché sei membro dell'Iglesia ispano-americana di Genova. Amen. Giusto, ho detto giusto, perfetto. Tu, Jennifer, rimani qua. Sì, io rimango a casa. Sei tornata in questo caso. E come l'avete vissuta, Jennifer, Jeremy, questa esperienza? Ho fatto io. Vai, parti tu. Boh, io l'ho vissuta bene, ci sono stati giustamente nei momenti di down, anche perché convivere con altre 19 persone è difficile, soprattutto all'inizio che non ci conoscevamo, quindi abbiamo iniziato a conoscerci piano piano. Avete vissuto giornate di relax, spiaggia, mare, basta. Avete vissuto tante esperienze. Tante esperienze anche emotivamente intense, quindi insomma ti metti anche in gioco. Emotivamente. Magari esce anche un lato di te che forse uno ha qualche pudore, no? A far uscire con persone che ancora non conosci tanto bene. Questo è un aspetto importante da tenere in considerazione. Però nel complesso, come ti è venuta l'idea di partecipare? Ma in realtà me l'ha condivisa una... In realtà ce l'ha condivisa Carola, la... La diacona. La diacona qua di Torre, perché io faccio la monitorice qua a Torre Pellice. E quindi c'è anche in questo gruppo, c'è anche la mia migliore amica, abbiamo partecipato insieme. E lei mi fa, dai andiamo, proviamoci. Allora... Mi siete fatte coraggio una con l'altra. Sì, a vicenda e ci hanno scelte, quindi... Meno male, siamo qui. Bene. Poi ho visto che si parlava molto... Era della chiesa valdese e evangelica e quindi ho detto proviamoci. Siamo comuni, cioè veniamo da tutta Italia, quindi anche magari dialetti diversi, ci scherziamo molto su questa cosa e... Si sdrammatizza, insomma. Anche i momenti di difficoltà si superano un po' in questo modo. E Jeremy, per te com'è nata la voglia di partecipare a questo progetto e cosa ti porti a casa? Cosa ti riporterai a Genova? Buonasera con tutti, buonasera. Sì, io... Questo viaggio è stato molto interessante. Io l'ho conosciuto per uno dei accompagnatori, Moises. Un giorno ero alla chiesa. Io sono della chiesa spanoamericana, ma non avevo la forma di uscire normalmente perché non avevo documenti. Quindi lui mi dice, c'è una possibilità, ma non penso che potresti andare perché adesso non ce l'hai ancora i documenti. Quindi ho detto, vabbè, mio cugino era l'unico che poteva andare e poi con il tempo mi ha detto se vuoi andare c'è solo la possibilità di fare tutta Italia solo in treno. Perché io sono a Genova, dovevi andare a Sicilia, quindi al principio ho detto di no perché dicevo, sono 14 ore o più di un giorno intero in treno per fare un viaggio che non so come potrebbe uscire, come sarà. e poi con il tempo ho detto, vabbè, non so cosa farò nelle vacanze, nelle ferie. ho preso la decisione di venire a pensare di che sarà un viaggio lunghissimo. E cosa ti porti a casa? Quali sono le emozioni che ti porti a casa? Moltissime. Come hai vissuto questo viaggio? A parte il gruppo che, certo, lo che dicevi, sul pudore che uno ha, uno fa delle cose a casa, è diverso totalmente incontrarsi con persone tutti i giorni. Anche se hai sette fratelli, però sono fratelli, è diverso. Un po' a lontani che ci vediamo ogni domenica, è diverso abitare in un stesso luogo, compartire lo stesso bagno, la stessa stanza, mangiare insieme tutto il tempo. Quindi questo mi è piaciuto tanto e anche la situazione che abbiamo visto in tutta Italia, su come un gruppo giovane ha la possibilità di aiutare alle altre persone che hanno bisogno di noi insieme alla Chiesa e alle organizzazioni che abbiamo vissuto. Qual è il momento che vi è piaciuto di più in assoluto? Quello che vi portate nel cuore? Luogo, momento, persona, opera che avete visto? A me è Rosarno. Rosarno. A me quella... Calabria. Sì, Rosarno, Calabria, questa situazione dei migranti mi ha colpito abbastanza. Io sono immigrante, quindi mi... Ti sei sentito partecipe. Sì, come dicevo, grazie a queste persone che pensano a noi, mi introdusco un po', so che la mia situazione non è così brutta come la di loro, ma dico che delle volte l'amore di Dio, la Chiesa, si può fare delle cose buone per il mondo, può fare attivo, perché sempre c'è questa situazione per i divati che la Chiesa non fa niente, la Chiesa non partecipa. Statica, ferma, distaccata. È fredda con i temi importanti del mondo, ma io ho visto in questo momento che, in tutto questo viaggio che... Invece non lo è. No, possiamo farlo. Non dobbiamo essere così rigidi anche con le proposte che ci sono, che si può fare, si può fare. Si può fare, molto bene. Mi ha colpito abbastanza. Jennifer, invece per te? Io ti dico Adelfia perché siamo arrivati lì ed eravamo tutti un po' timidini, tutti... Ciao. Immagino la prima cena tutti insieme in silenzio. No, abbiamo iniziato subito a cacchierare. L'ultima invece è un caos. No, ma perché poi siamo cresciuti tutti un po' ad Adelfia, poi vicino al mare, le onde del mare, anche con lo staff che c'era lì, che in questi giorni abbiamo rivisto qua al Sinodo. Già. Siamo stati molto carini con noi, il cibo delizioso, quindi Adelfia sarà un po' solo il mio cuore. Del tuo cuore. Buonissimo il cibo. Buonissimo il cibo. Questo aiuta, diciamo che la parte gastronomica è importante. Tanchenok, per te, un ricordo che ti porti nel cuore, un'emozione particolare o quello che insomma ti ha regalato questa esperienza? Perché anche per voi era animatoria e animatrice, era un'esperienza nuova. Molto, molto nuova e soprattutto mi sento come parte e accompagnatrice di questo percorso molto arricchita dai ragazzi e le ragazze, perché noi abbiamo messo un pezzetto, ma loro ci hanno dato cento volte di più, quindi è stato un arricchimento in quel senso. Tutte le tappe c'era in qualche modo una pietra preziosa data da una parola del giorno, un momento di meditazione, oppure anche una battuta, un momento di canto. Insomma, tutto questo ha fatto sì un piccolo tesoro di questo percorso, meno per me. Parteciperete anche, avrete un momento durante il sinodo in cui potrete parlare? C'è già stato? C'è già stato. C'è già stato. Forse questa mattina addirittura, me lo sono perso nelle varie dirette. Samuele, che era uno dei ragazzi che ha parlato la scorsa volta, ha preso parola e ha salutato, diciamo, anche il nome del gruppo. Allora, grazie ragazzi, in nome ovviamente di tutti gli altri, saluto voi, ma saluto come se salutassi tutto il gruppo di 20 persone e gli altri animatori e animatrici che erano con voi. Alcuni li abbiamo conosciuti nelle precedenti tappe di questi collegamenti che abbiamo fatto e buona continuazione in tutte le vostre attività e speriamo che, insomma, questo progetto della Pest Summer Tour abbia altre edizioni, altre possibilità. E quindi buon lavoro a tutti e buon proseguimento. Ciao. Grazie. Ciao Daniela. Grazie.